mario del giglio nel triangolo il mistero attraverso mario del giglio domanda se l'evoluzione avviene ampliando il sentire interiore come faccio ad ampliarlo se il film è già scritto risposta non ho detto che tu sei solo spettatore del film ma che ne fai parte e che poi lo vedrai e solo alla fine del film conoscerai tutta la trama non siete fuori dal film siete dentro è una cosa diversa